Il convegno dei grandi ospedali rappresenta per noi un momento importante, innanzitutto di sinergia tra due strutture che rappresentano per la regione Lazio e due elementi universitari fondamentali per la salute dei nostri pazienti. Nel quadrante nord, con una rappresentatività anche nel territorio, e nel quadrante sud-est, mi riferisco in particolare a Sant'Andrea I, al Policlinico Torverdani. Una strategia univoca per far vedere le best practices di ciascuna struttura in un confronto, anche in una logica di crescita, perché vogliamo prendere il meglio, come dico sempre, utilizziamo il metodo Kaizen, studiamo, copiamo e miglioriamo. Quindi in questa logica noi possiamo fare grandi passi in avanti per quello che è il servizio sanitario pubblico, che a mio avviso rimane sempre uno zoccolo duro della Sant'Andrea.